Allora, la lezione di oggi è dedicata allo stato naturale, alla teoria dello stato naturale, dell'uomo naturale, in tre autori. Thomas Hobbes, che nasce nel 1588 e muore nel 1679, autore in modo parere dell'opera Il Leviatano, Locke, protagonista anche della seconda rivoluzione inglese, uno degli ideatori del Bill of Rights, nasce nel 1632 e muore nel 1704, in ambito politico scriverà dei trattati sul governo, molto molto importanti per il mondo poi liberale, e Jean-Jacques Rousseau, il filosofo francese dell'età dei lumi, 1712-1788, autore del saggio sull'origine di disuguaglianza e del contratto sociale. Noi per oggi, di questi tre autori, vedremo la loro teorizzazione dello stato naturale sociale, da cui poi partiranno per teorizzare il contratto politico. Faccio un'introduzione complessiva a tutti e tre contrattualisti e poi andiamo a vedere nello specifico la sottolineatura di Rousseau, anzi, in ordine andiamo di Hobbes, di Locke e di Rousseau. I contrattualisti, nell'ambito della filosofia politica, i contrattualisti sono quei filosofi che pensano che alla base dello stato politico, della società civile, dunque dello stato con le leggi, della società civile organizzata, dello stato dove vi è il potere politico, vi sia un contratto. I contrattualisti pensano che alla base della sovranità politica, che alla base della nascita di uno stato civile, vi sia un contratto, un patto tra gli uomini e tra i principali contrattualisti, tra il 600 e il 700, abbiamo appunto Thomas Hobbes, il teorico del contratto assolutista, Thomas Hobbes sarà il teorico di un patto, di un contratto che fonda l'assolutismo, a differenza di Baudin, che è un assolutista ma anche un gius naturalista, Thomas Hobbes sarà un contrattualista che pensa che però alla base del contratto non vi sia il diritto naturale, anzi va sul patto di diritto naturale, ma se vi sia il diritto poi positivo. Dunque Thomas Hobbes che teorizzerà un contratto politico di stampo assolutista, Locke, John Locke che teorizzerà un contratto di natura poi liberale e uno dei grandi vecchi, uno dei grandi maestri del liberalismo, i due di voi che faranno il lavoro sulla lettera sulla tolleranza ci presenteranno un capolavoro della tolleranza religiosa, uno dei capolavori della laicità dello Stato, perché uno dei teorici della separazione tra la sfera politica dello Stato e la sfera religiosa della Chiesa. Locke, John Locke teorico del patto liberale e poi ovviamente Jean-Jacques Rousseau il teorico del contratto sociale del patto politico democratico. E dunque, ricapitolando, Thomas Hobbes un contrattualista assolutista, John Locke un contrattualista liberale, Jean-Jacques Rousseau un contrattualista democratico. E dunque abbiamo il teorico dell'assolutismo, il teorico della liberaldemocrazia futura, o meglio direi della monarchia almeno costituzionale, liberale, e poi il teorico della democrazia rappresentativa. Rousseau è un teorico della democrazia diretta sulla carta, poi però vedremo che la posizione di democrazia diretta di Rousseau si stempererà un po' e diventerà di fatto il teorico della democrazia che comunque ha dei delegati, ha dei rappresentanti, ma questi rappresentanti per Rousseau si possono rimuovere quando essi non rispettano più il mandato popolare. Non è un caso che il Movimento 5 Stelle abbia scelto di chiamare la propria piattaforma online Rousseau con l'idea che sia la base, in questo caso gli iscritti al partito, Movimento 5 Stelle, che debbano vincolare con un mandato i propri leader e i propri rappresentanti, cioè la linea politica di Di Maio la possiamo valutare noi, quello che fanno i parlamentari o che dovrebbero fare lo possiamo valutare noi. Ovviamente è un tentativo ultra criticato o esaltato, ognuno può avere opinioni, è chiaro che non sempre la piattaforma Rousseau ad esempio è stata consultata su tutti i casi e c'è chi dice ma allora perché in alcuni casi no? E dunque critiche, ma allora fate votare i militanti, gli iscritti soltanto su quello che vi fa comodo e altre volte no, oppure no, quello non è la vera democrazia, la democrazia è dare un mandato, al termine di questo mandato si giudica l'operato e non durante il mandato spostiamo la linea politica, la cambiamo o delegittimiamo dei rappresentanti. In realtà ovviamente ragazzi qua uno può farla contro critica e dire no, no, è giusto durante il mandato altrimenti io leggo delle persone che poi fanno quello che vogliono. È chiaro? Assolutismo, liberalismo, democrazia. Questi autori però partono da una riflessione filosofica estremamente originale, estremamente affascinante, immaginano l'uomo prima dell'entrata nello stato politico, nello stato civile. Il primo a farlo, in maniera appunto teoricamente veramente sublime, è Thomas Hobbes. Cosa fa Thomas Hobbes? Partiamo da qua. Hobbes per analizzare, fondare lo stato politico, per parlare della sovranità politica, per teorizzare la sovranità politica, cerca di capire quali siano le caratteristiche dell'uomo prima di entrare nello stato politico e dunque non da storico, non da antropologo sul campo, ma da un filosofo antropologo. Cosa fa? Immagina l'uomo, lo spiego un po' di volte, prima della sua vita nello stato politico. Hobbes si pone la domanda. Ma l'uomo, prima di vivere in uno stato politico, in uno stato civile, prima di vivere al di sotto di leggi, prima di interfacciarsi con una sovranità politica, ad esempio noi. Noi, prima di essere qua, nella nostra Torino, con le leggi comunali, nel nostro Piemonte con le leggi regionali, ma soprattutto nella nostra Italia, con le leggi italiane o nell'Europa con le leggi europee. Noi, prima di essere cittadini europei, italiani, piemontesi e torinesi, noi, prima di stare nel mondo politico, quali caratteristiche naturali avevamo? Noi, spogliati della dimensione della polis, spogliati della vita nelle leggi con le leggi. Quali caratteristiche naturali abbiamo? Chi è l'uomo naturale? Come vive l'uomo naturale? Quali caratteristiche ha l'uomo naturale? Ripeto, Hobbes immagina, fa un'operazione intellettuale di astrazione, questo deve capirlo bene, non prende un libro di storia all'epoca, non sono tanti, e allora dice studio gli uomini primitivi. No, lui prova ad immaginare, certo la sua mente magari può andare agli uomini primitivi, la sua mente può correre ai diari di bordo, dei navigatori, ma non vuole fare un lavoro storico, ma prova a dire eliminiamo ogni caratteristica politica civile dall'uomo. Cosa mi rimane? L'uomo naturale. E l'uomo naturale, che caratteristiche ha? Lo stesso farà Locke, lo stesso farà Rousseau criticando durissimamente sia Locke ma soprattutto Thomas Hobbes. Però partiamo da Hobbes. E vi dicevo per l'appunto, vi cito alcuni passaggi del Leviatano che trovate poi a pagina 402. Secondo Hobbes l'uomo per natura è egoista, l'uomo non è naturalmente socievole. Hobbes rovescia, critica la tesi filosofica aristotelica. Per Platone, ma soprattutto per Aristotele, l'uomo è più che mai un animale politico per natura. Dunque l'uomo è portato naturalmente a unirsi con altri uomini. La politicità dell'uomo per Aristotele è naturale. Hobbes prende il paradigma aristotelico e lo rovescia e dice l'uomo non è per natura socievole, l'uomo non è per natura portato a vivere con gli altri uomini, l'uomo è egoista. L'uomo confligge naturalmente con gli altri uomini. L'uomo è lupo degli altri uomini. Dunque c'è questo recupero anche del mondo latino, di riflessioni già fatte da dei latini, homo homini lupus cest. La propensione naturale dell'uomo è quella di trasformarsi in un animale cacciatore della sua stessa specie, non il leone aggredisce la gazzella. Quello potrebbe essere la natura di andare contro qualcun altro, un'altra specie. No, l'uomo è lupo della sua stessa specie, cioè degli uomini. E quali sono i motivi per cui gli uomini confliggono? Naturalmente sono tre le motivazioni. Uno, per natura gli uomini sono competitivi. Un domani un teorico del capitalismo competitivo estremo può dire, vedete perché il capitalismo è il sistema economico migliore. Per cui per natura, come già diceva Hobbes, tende a competere. Solo che la maggior parte dei teorici della competizione, vi faccio due esempi che ho già fatto in così facciamo ripasso di storia, sono, non so, Kesney, ma soprattutto Adam Smith, ma poi anche Hume. Gli uomini sì competono, ma mossi anche da simpatia e dunque competono ma collaborano. Invece per Hobbes competono, per natura competono, cioè sono competitivi. Intorno a un campo di zucche, ad un laghetto, a un sbocco punto sul mare, gli uomini competono. Per natura gli uomini sono competitivi. Due, è una miniera d'oro, Hobbes è un gigantissimo ragazzi, ragazzi. Due, gli uomini sono per natura diffidenti. Sono diffidenti per natura gli uomini. Vuol dire che anziché essere per natura aperti, ho un nuovo vicino di casa, riporto lo zucchero, il caffè, c'è una stasera cena, cosa che invece può accadere, gli dirà Jean-Jacques Rousseau, non l'esempio della cena del vicino, ma su altre cose. Cosa ti direbbe Hobbes? Un nuovo vicino? Chi è? Da dove arriva? Come cambierà la mia vita su questo pianerottolo? Che prevale sempre in maniera naturale la diffidenza. Secondo Hobbes, sarà poi lo stato che ci fa vivere insieme. Ma altrimenti noi, uno, competiamo per natura, due, siamo assolutamente diffidenti, non ci fidiamo degli altri. La fiducia non è una propensione naturale dell'uovo, è naturale la diffidenza, non fidarsi. Terzo aspetto gigante, ripeto, da questa sua analisi, che è assolutamente discutibilissima, Hobbes ci dice la gloria. Molti uomini, se non tutti, confliggono anche per la gloria. Poi ragazzi c'è la gloria di Giulio Cesare e c'è la gloria di quello che vuole essere il re del quartiere. È chiaro? Sono due cose diverse. Perché conquistare le gaglie non è conquistare via brandizzo, va bene? Ma rimane la gloria dell'essere il dominus o dell'essere il primo della classe o di essere il migliore. Lo fai per gloria, dice, la gloria di essere superiore agli altri. Dunque, ricapitolo, vuoi per competizione, vuoi per diffidenza, vuoi per gloria, gli uomini naturalmente confliggono. E cosa accade? Che gli uomini, egoisti per natura, sono anche assolutamente liberi. Nello stato di natura, la prima caratteristica è che l'uomo egoista. Sì, ma la seconda è che nel stato di natura non c'è la legge, c'è soltanto il diritto naturale. E il diritto naturale può essere quello che ogni tanto, se proprio sto per morire, chiedo aiuto, va bene? O il diritto naturale di quello che è più forte fisicamente e mi dà un cazzotto sulla testa? O dell'altro che è più veloce? In natura non esiste la legge positiva. Esistono soltanto degli aspetti naturali che fanno sì che tutti di fatto siamo potenzialmente liberi su tutto. Poi trovo quello che è più forte di me e che appunto mi dà un pugno e non mi fa arrivare al lago e dice qua ci bevo io adesso. O quello che vede che sto raccogliendo delle albicocche e mi spinge e mi porta via le albicocche che ho raccolto dall'albero perché tutti si sentono liberi di tutto su tutti. Uomo egoista, due, assolutamente libero. incrociate l'egoismo e l'assoluta libertà e avete la guerra di tutti contro tutti. La guerra di tutti contro tutti. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli uomini giungono a prevaricarsi per gloria, per competizione, per diffidenza. La guerra di tutti contro tutti perché nessuno si fida di nessuno, perché tutti vogliono più. Dunque in natura quella condizione naturale di libertà è degenerata nella guerra e Ouse aggiungerà e nella guerra declina il lavoro perché se io lavoro ho paura che gli altri si prendano il frutto del mio lavoro perché se io di notte vado a dormire ma i miei campi lavorati vengono all'alba devastati io finisco per non avere più la forza, la fiducia per lavorare e dunque il lavoro viene meno o diventa un lavoro appunto distruttivo. Lo scambio culturali, potenzialmente di arti, di scienze, di conoscenze, nella guerra di tutti contro tutti viene meno perché prevaricando non c'è collaborazione in ambito, vi ripeto, culturale, scientifico, tecnologico, che vuol dire io ho scoperto, non so, il ferro, il fuoco, va bene, e allora cooperiamo. No, quello che io scopro lo utilizzo al mio fine per prevaricare sugli altri. Dunque lo stato di natura, per Hobbes, sempre, scrivetevi sempre, degenera nello stato di guerra di tutti contro tutti. But, ma, c'è un'altra questione, l'uomo non è soltanto egoista, l'uomo non è soltanto libero di tutto su tutti, ha due altre caratteristiche l'uomo naturale, ci dice Hobbes. L'uomo naturale ha comunque uno strumento, strumento, mi piace che l'ho chiamato così, strumento, che si chiama ragione. Gli uomini in natura sono comunque dotati di ragione e sapete che cos'è la ragione per Thomas Hobbes? Per Thomas Hobbes la ragione è calcolo, la ragione è calcolo, è capacità di calcolare, di calcolare i mezzi in vista di un fine, la ragione è capacità di fare previsioni, questo passaggio è bellissimo, la ragione è capacità di fare previsioni. Non è che io dico, è una persona molto razionale, quando magari è previdente, sa calcolare i costi e i benefici in mezzi per raggiungere un fine, questo è Hobbes. Dunque la ragione non è l'emozionalità, fate che si dice mamma mia ragioni con la pancia, vuol dire che non stai ragionando in ottica appunto di previsioni, calcolo, costo e benefici, mettendo a posto cause e conseguenze, ma di impeto tu stai appunto reagendo. Hobbes dice l'uomo non è soltanto impeto, ha anche ragione e calcolo, terza caratteristica. E la quarta è che l'uomo teme la morte, l'uomo ha paura di morire, l'uomo in natura ha paura di morire, che siano le belve feroci, che sia l'inalzamento dell'acqua, che sia appunto la siccità, che sia appunto la tempesta, l'uomo cerca il riparo dalla morte. Non è naturale ragazzi mettere il petto in fuori e dire al leone sbranami, ok? O dire mentre c'è qualcuno che sta negando e buttarsi ti salvo io, non è naturale. Dice Hobbes è naturale aver paura della morte. E dunque incrociatemi la terza caratteristica, l'uomo razionale. Con la quarta l'uomo teme la morte, secondo Thomas Hobbes l'uomo calcola che dallo stato di natura bisognerà andare via. Come? Con un patto che fonderà lo stato assoluto, lo stato leviatanico. Ma questo sarà argomento di un'altra lezione, perché oggi mi concentro su stato naturale. Lo rispiego. La ragione calcolante, il timore per la morte ti portano all'exit, l'exit dallo stato di natura. L'uomo naturale abbandona la sua condizione di natura perché ha calcolato che in natura, essendo egoista e libero, muore. Ma temendo la morte bisogna uscirne. È di una veramente linearità il ragionamento di Hobbes. E purtroppo, io lo sapete non sono un pessimista, nonostante guardando il mondo è più facile essere pessimisti che ottimisti, purtroppo Hobbes piace sempre. Per cui la forza di Hobbes è che quello che dice Hobbes tu cominci a dire ma guarda un po' la mia classe, sì ognuno pensa a se stesso, ma guarda un po' la città, ma ognuno pensa a se stesso. E in Europa, ma ognuno pensa a se stesso. Dunque Hobbes ha la forza della realtà. Lui è un realista della politica e ti dice guarda che l'uomo buono non esiste, l'uomo è per natura cattivello, egoista. È chiaro? Passiamo invece a John Locke. John Locke, dicevo già prima, teorico del liberalismo, protagonista della seconda rivoluzione gloriosa inglese, autore di due trattati sul governo. John Locke critica duramente la teoria antropologica-filosofica o meglio ancora filosofica-antropologica di Hobbes, ma non su tutto, lo vedrete, sono due i punti di disaccordo, ma basteranno ovviamente per dare vita ad un altro progetto politico. Il primo è fondamentale. Locke è in questo aristotelico. L'uomo è per natura portato a collaborare con gli altri uomini. Secondo Locke, l'uomo è socievole. Socievole vuol dire che per umana simpatia, per collaborazione, di fronte a dei pericoli collabora, di fronte a delle difficoltà non è sempre pronto a buttare l'altro giù dalla rupe, ma una mano la tende. Gli uomini hanno delle capacità naturali di socievolezza, si uniscono, danno vita a villaggi, danno vita a famiglia, a villaggi, danno vita a stati. Dunque c'è una naturale propensione a collaborare. Io mi permetterei qua di dire che prima di dire soltanto, e Hobbes ha delle ragioni, Hobbes, tutta la linea, non è che voi ogni volta che in strada, nonostante possiate avere un po' di diffidenza, incrociate uno sconosciuto, scappate, vi nascondete, fate che per una pistola ammazzare. Hobbes dice proprio invece che c'è una propensione quasi al non stare insieme perché l'egoismo più la libertà deflagrano sempre in conflitti. Locke vi dice, attenzione, gli uomini hanno invece capacità di collaborare. Quando si incontrano, costruiscono passaggi sociali, socievoli, insieme. Dunque il primo punto è agli antipodi, ovviamente, di Hobbes. L'uomo è socievole, ha una propensione naturale a collaborare. Non ho detto proprio buono, solidale, madre Teresa di Calcutta, padre Alex Zanotelli, c'è gente che si sacrifica per gli altri, no? Ho detto socievole. Punto due. Ma l'uomo socievole è libero di tutto su tutti, esattamente come per Hobbes, perché nello studio di natura non c'è la legge, c'è solo il diritto naturale. Il diritto naturale fa sì che ci sia la socievolezza, ma fa sì che ci sia, chi è più forte, chi è più veloce, chi resiste maggiormente al freddo, chi resiste maggiormente al caldo. Ci sono delle condizioni naturali, ovviamente, dentro le quali noi viviamo. Tra queste condizioni naturali c'è anche il darsi la mano ed aiutarsi, però c'è una libertà assoluta che può portare alcuni uomini sicuramente a scegliere anche di non collaborare. Per Hobbes naturalmente siamo egoisti, per Locke alcuni uomini in alcune occasioni possono decidere di non collaborare. Dire che è socievole l'uomo per natura non vuol dire che non ci possa essere il conflitto, che non ci possa essere l'azione individuale anche mossa da ira, da rabbia. Però avete la differenza? Locke dirà c'è una libertà che dà un grande problema in natura. Per Hobbes tutte le libertà ci portano alla guerra, perché Francesca pensa A, Chiara pensa B, perché lui preferisce Z, H vorrebbe... Dunque la libertà di opinione è flagrante per Hobbes, la libertà di usi, costumi, tutte le libertà per Hobbes portano alla guerra. Locke dice, Hobbes stai sbagliando, ce n'è una libertà che in natura porta alla guerra ed è la libertà di farsi giustizia da sé. Perché cos'è che manca in natura? Manca l'arbitro, manca il terzio super partes. Probabilmente ragazzi anche nella partita più tranquilla di calcio al mondo, gli scapoli ammogliati di fantozze può finire una scazzottata tra gli scapoli ammogliati anche se non c'è in premio lo scudetto, la Coppa UEFA, la Coppa Gamma, o il torneo, c'è nulla. Ma può finire in una rissa, perché manca un arbitro. O anche la classe più armoniosa del mondo, in assenza di un terzo super partes, il professore che garantisce che ci sia quel comportamento durante la verifica o le programmate, potrebbe andare in crisi perché su venti due hanno deciso di non rispettarle. Il problema è che altri tre hanno deciso un'altra cosa, non hanno rispettato e spacco la faccia. Allora, sì il problema, dirà Locke, che nello stato di natura, mancando il terzio super partes, l'arbitro, la legge, può capitare che alcuni uomini decidano di farsi giustizia da sé. Si chiama vendetta, si chiama giustizia privata, il film, si chiama il giustiziere della notte fino agli anni 70 con Charles Bronson, gli uccidono la figlia, la polizia inetta. Sai cosa faccio? Adesso li vado a prendere io uno a uno, il film mi abbia tanto successo, giustiziere della notte, uno, due, tre, quattro, cinque. Quando ci metti in poltrona, che fine, uno che decide se si fa giustizia da sé, non c'è un magistrato, un giudice, un poliziotto che mi mette, mi faccio giustizia. Ancora oggi può provare un fascino questo tema del mi faccio da sé. Nello stato di natura non è un fascino un film o l'ira, è la norma perché non c'è la norma. Cioè chi vuole farsi giustizia da sé può farsela. Sapete qual è il problema ragazzi? È questo, dirà Locke, che nello stato di natura se uno comincia a dire mi faccio giustizia da sé, innesca una spirale di violenza dove quello che subisce la vendetta della tribù Z dirà, ah sai cosa faccio? Era sbagliato quello che ha fatto lui. Mi vendico a mia volta, ma l'altro a sua volta risponderà in un circolo che fa sì che la sua natura diventi la guerra di tutti contro tutti. Guardate ragazzi e ragazzi che anche la più mite di voi, chi è mite? Non chiaramente Elisa eccetera eccetera, ok chi è mite? Chiara no perché sotto è conflittuale, ok Beatrice la prendiamo come mite? No, una serpia, non c'è nessun mite in questa classe, non ne parliamo. Samuele, un buon, Martino, Martino, guardate che non c'è, è mite perché non c'è, ci fossero, ma anche Samuele, poi dottor Jake mistera, Sofia, Sofia mite, ma cosa stiamo dicendo? No, 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 prendete la più mite di voi, Martina, guardate che probabilmente anche Martina che essendo mite ha conflitto poco con altri ci sarà qualcuno a Torino che non la sopporta, ci sarà anche probabilmente qualcuno che dice, oh quella volta mi ha fatto una cosa che per me sta sgradevole e per dirvi che anche le persone che sono meno conflittuali o più miti potrebbero avere qualcuno che non le sopporta e che vorrebbe pertanto vendicarsi o portarli un torto e una spirale, c'è sempre qualcuno che vorrebbe vendicarsi di qualcosa e dunque io mi vendico di chi si è vendicato e mi vendico di chi si è vendicato e di chi si è vendicato. La vendetta è la morte, il suicidio dello stato di natura, dunque lo stato di natura precipita perché gli uomini tra tutte le libertà che hanno ne hanno una pericolosa, è quella di dire mi faccio giustizia da me, e guardate ragazzi che i politici, mia opinione ovviamente, che invitano alla giustizia privata stanno facendo un danno per la collettività, perché giustizia privata si chiama far west, è chiaro, dove ognuno con la sua pistola, il fucile, la sedia d'ondo, il cavallo, decidi di andare a ammazzare, arrestare quello che pensa che sia un colpevole, e non funziona così. Nelle comunità democratiche e civili la giustizia privata è una bomba ad orologeria che può travolgere la nostra società, quello di natura, questo naturale è invece la causa della fine. Terza caratteristica e quarta sono uguali. L'uomo naturale per Locke è un uomo che, no mamma mia non ce la faccio, l'uomo naturale per Locke è l'uomo che è razionale e che teme la morte, e pertanto decide di uscire dalla sua natura. Ma perché decide di uscire dalla sua natura? Decide di uscire perché bisogna mettere al bando la vendetta. Non uscirà l'uomo dallo stato di natura per perdere tutti i diritti e libertà, come per Hobbes, ma lo vediamo nella prossima lezione, uscirà dallo stato di natura perché nello stato di natura manca il terzo super partes che normi la vendetta, che elimini il diritto alla vendetta. Dove c'è vendetta non c'è possibilità di vivere insieme. Dunque per Hobbes l'egoismo e la libertà portano lo stato di natura alla guerra. Per Locke è il diritto di vendetta, la libertà folle di vendetta ma naturale che porta l'uomo allo stato di guerra. Terzo ultimo autore, spero di farcela, è Rousseau. Rousseau parte dicendo una cosa bellissima, avviso. Caro Thomas Hobbes, sai cosa hai fatto tu? Tu volevi descrivere lo stato naturale, ma in realtà, scrittevi bene che è fantastica questa critica, tu hai guardato l'Inghilterra del 1630 e 40 dove ci sono le guerre di religione tra cattolici, puritani, anglicani, dove c'è la guerra civile tra il Parlamento, vedo che l'intervento sta per arrivare, è Carlo I, tu hai aperto la tua bella finestra sull'Inghilterra del 1630-40 e hai detto l'uomo egoista, ma tu non hai descritto l'uomo naturale, tu hai descritto, stupendo, l'uomo moderno e lo hai trasformato in uomo naturale. Adesso io, ognuno che ti racconto com'è l'uomo naturale. E inizia la descrizione di Jean-Jacques Rousseau, che non rispetta proprio in parallelo quanto i due autori precedenti, ma io ve la sintetizzo così. Jean-Jacques Rousseau parte dal mito anche del buon selvaggio, all'epoca molto diffuso, però dice, attenzione, il buon selvaggio di cui parliamo è buono nel senso ingenuo, perché in realtà il selvaggio non è né buono né cattivo. Dunque l'uomo naturale per Rousseau non è né buono né cattivo, è un uomo che può essere violento, ma che può anche essere solidale, va bene? Dunque un uomo, dice, uguale a tutti gli altri uomini politicamente, perché in natura non c'è chi è re, chi è suddito, chi è capo, non c'è chi è ricco e chi è povero. In natura sono tutti politicamente uguali, non come oggi che ci sono i cinque più ricchi del pianeta e possiedono come la metà degli abitanti. Rousseau, nel saggio sull'origine di disuguaglianza, oggi attualissimo, venisse qua e ti direbbe, oh che strano, ragazzi ma ci state pensando, ci sono cinque persone che possiedono soldi come tre miliardi di persone, è naturale? Rousseau ti direbbe, no, quello è politico, è accaduto qualcosa per cui nella storia dell'umanità si è finito per arrivare il concentramento di potere e di denaro in alcuni uomini e altri non hanno accesso all'acqua. Non è naturale che alcuni uomini si possano fare la doccia 24 ore al giorno e che alcuni non hanno accesso all'acqua, non è naturale, è politico. Dunque in natura gli uomini sono liberi, sono naturalmente, sono politicamente uguali, ma sono diversi per natura, chi è più forte, più veloce, più alto, più basso. Dunque in natura ci sono differenze naturali, ma non differenze politiche. Lo rispiego, in natura non c'è il ricco, il povero, il re, il servo, il conte, il duca, il suddito. Si è tutti uguali politicamente, ma in natura vige la differenza naturale. Cosa è accaduto allora in natura? Questi uomini buoni e cattivi, diversi naturalmente, però sono spinti da una cosa, da un sentimento, un conatus, avrebbe detto Spinoza un secolo prima, che si chiama amor proprio o spirito di autoconservazione. Ogni uomo vuole autoconservarsi. E l'amor proprio, passaggio qua bellissimo, ha portato gli uomini a dare vita alle famiglie, perché i figli sono un atto di egoismo, perché tu vuoi continuare a vivere attraverso i discendenti. Dunque l'amor proprio ha fatto sì che gli uomini abbiano iniziato a riprodursi e dare vita a delle famiglie. E quando tu hai le famiglie hai cominciato a dire però qualcosina di questo tipo, mia figlia, mio figlio, il figlio di un altro. Esattamente come quando i vostri genitori vengono a vedere una gara sportiva e cade la figlia dell'avversario, mi spiace, batte le mani, la figlia vince. L'amor proprio fa sì che ci sia verso i figli maggior amore rispetto ai figli degli altri. Dunque in natura l'amor proprio ha cominciato a dividerci in famiglie. Ma poi gli uomini per autoconservarsi meglio sono passati da raccoglitori ai cacciatori ad agricoltori e hanno cominciato a coltivare e hanno cominciato a tirare fuori strumenti tecnologici. Tutto questo in maniera naturale. E il capolavoro di Rousseau, che è un democratico, non è un comunista cristiano come Campanella o Mor, ci dice Rousseau. Amor proprio, famiglie, industria, metallurgia, artigianato, agricoltura. Alcuni uomini a questo punto, e sono loro quelli che hanno fatto nascere la storia moderna, sono loro che hanno travolto la società naturale, hanno detto attorno a un pezzo di terra con due paletti e un filo, questo è mio. Gli primi uomini che hanno recintato della terra e hanno detto questo è mio, sono gli uomini che hanno fatto nascere la società moderna. La proprietà privata fa una società moderna. Ma sapete quanto è una società moderna? È nata sulle ceneri lo stato di natura. Perché quando hanno detto questo è mio, hanno stabilito che questo è mio e non è tuo. Questo è mio e io sono più ricco perché tu non ce l'hai e la guerra è arrivata a travolgere lo stato di natura. La guerra, e ce l'ho fatta, chiudo con questa frase, la guerra per Jean-Jacques Rousseau travolge lo stato di natura perché è nata la proprietà privata. La proprietà privata divide il mondo in ricchi e poveri, in più ricchi e meno ricchi, poveri e meno poveri, in ricchissimi, un po' ricchi, ricchettini, poveri e poverissimi, straccioni. Ma quando siamo divisi per ricchezza, per proprietà, siamo divisi in un futuro, in classi sociali, divisi intorno alla proprietà, gli uomini hanno cominciato a fare la guerra. E sapete qual è la guerra? La prima guerra, i poveri contro i ricchi per avere. La seconda guerra, i poveri contro i poveri per avere le briciole dei ricchi. Rousseau è un gigante. E la terza guerra, i ricchi contro i ricchi per avere di più. Però ragazzi e ragazzi non dimenticatevi mai che i ricchi prima combattono i poveri, poi eventualmente si fa la guerra tra i ricchi. Perché se si fa la guerra tra i ricchi a vantaggio dei poveri, i ricchi si suicidano. Dunque i ricchi hanno prima iniziato a guerreggiare con i poveri. E cosa hanno fatto? Hanno proposto ai poveri un patto per far nascere lo stato dei forti. Caro Hobbes, il tuo stato è uno stato iniquo perché è lo stato dei ricchi e potenti che assoggettano i più poveri. Ma di questo ne parliamo la prossima volta. Grazie.